È importante anche per il Veneto perché sicuramente darà la possibilità, naturalmente con tutte le verifiche del caso, di avere alcune disponibilità importanti nell'ordine di qualche miliardo per poter anche dare un senso, una forte capitalizzazione all'operazione di salvataggio delle due popolari. Decreto salva banche. Sono 20 miliardi destinati al sistema bancario nazionale. Il governo si ricorda anche del Veneto. Dopo l'approvazione in prima lettura del Senato, il testo in poche settimane dovrebbe ottenere il via libera definitivo dal Parlamento. Ecco perché l'intervento pubblico potrebbe risultare fondamentale per il territorio. È chiaro che una banca o due banche o una banca quando c'è la fusione che ha una prospettiva di futuro è in grado anche di far fronte in maniera diciamo più forte a eventuali situazioni di risarcimento che dovessero essere stabiliti dai livelli della magistratura. Avere una banca che comunque funziona intanto è importantissimo per il territorio perché riprenda l'attività di supporto alle aziende, al lavoro, al sistema territoriale, quindi alle famiglie. Dall'altro può avere anche più possibilità di far fronte a eventuali risarcimento che la magistratura dovesse stabilire a favore degli risparmiatori come credo sarà inevitabile nei casi soprattutto in cui ci sono state proprio quelle truffe che abbiamo più volte denunciato. Banche solide dunque sono anche banche capaci di reggere l'onda d'urto delle legittime richieste di risarcimento da parte dei soci rimasti beffati dal crollo delle azioni delle popolari venete. A loro le istituzioni devono dare risposte concrete.